Gestione dello stadio comunale di Noliotta, dello stadio Calogero Saporito e della piscina comunale per nove anni. Questo quanto ha chiesto Giuseppe Deni all'amministrazione comunale licatese tramite una lettera inviata a Palazzo di Città. Dopo il dietrofront sulla gestione con un conseguenziale incontro nell'aula consigliare licatese, la Grigio Entino ha pensato di formulare una richiesta scritta agli amministratori locali dai quali adesso attende una risposta. A seguito del secondo incontro avuto con la Giunta Comunale, dice oggi Deni, ho formulato quelle che sono le richieste di cui noi necessitiamo per poter operare sul territorio di Licata e mettere in atto il progetto che vedrebbe non solo l'impegno nel mondo dello sport, ma anche l'organizzazione di eventi e manifestazioni collaterali. Nei nostri piani c'è infatti lo svolgimento di un campionato di eccellenza attraverso l'impiego di giovani locali dell'Interland, ma anche la creazione di una scuola calcio che possa diventare il vivaio giallo-blu e altri progetti che vorremmo realizzare in Rival Salso. Adesso, conclude Deni, attendiamo una risposta da Parazzo di Città, dopodiché vedremo il da farsi. E il da farsi si dovrà comunque decidere a breve, in quanto proprio prima della fine del mese di luglio scadono i termini per iscrivere la squadra al torneo di eccellenza. Occorre quindi capire come muoversi e soprattutto con quale basi.